Ecco fatto. Scelgo Toy Story 3. La grande fuga. Si fa così. Scelgo Toy Story 3. Apro. Chiudo. 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 D'accordo, senti, non sarei voluto arrivare a questo, ma tu non mi lasci altra scelta. Sguardo che conquista. Sì, sì. Sì, sì. Sto cercando Babbo Natale. Certo, lo faremo insieme, giovanotto. Hai visto? Babbo è straordinario, attrae tutti i bambini. Vorrebbe che Babbo Natale portasse un cagnolino alle bambine della casa famiglia. Chissà cosa sarà successo a Zampa e Babbo Natale. Non so se sono o non sono il vero Babbo Natale. Questo posto è brutto senza decorazioni. Zampa! Riuscite a immaginare un mondo senza Babbo Natale? Qualcuno una volta mi ha detto che lo spirito del Natale è proprio dell'animo puro dei bambini. Zampa è la magia del Natale. Buon Natale a tutti! Un nuovo film in Disney TV. E' accaduto! E' accaduto! Non tutti ciò mi nasce un principe. Suone il tambu! Non cammina molto bene, vero? Lo chiamerò Basti. La tecnologia più avanzata, le location più esotiche, le missioni più pericolose. Il prossimo anno, preparatevi a scendere in pista con gli agenti segreti più nuovi del mondo. Cricchetto? Abbiamo fatto il passo più lungo della gomma. Abbiamo fatto il passo più lungo della gomma. Abbiamo fatto il passo più lungo della gomma. Sì sì. Fatto. Sì 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 Fatto